11 positivi ad Ariano, tra i quali anche i due bambini di una scuola materna che frequentano lo stesso istituto ma non la stessa classe. Il sindaco Franza ha preso la notizia e ha convocato per domani mattina una riunione con il COC al tavolo e è stata chiesta anche la presenza dell'ASL. Contattato telefonicamente, il primo cittadino Franza parla di situazione sotto controllo e per quanto riguarda le scuole ha precisato che ogni tipo di decisione è stata rinviata domani al termine del vertice, ma come da prassi è facile immaginare che i bambini delle due classi siano stati messi tutti in quarantena. Gli 11 positivi riscontrati nella cittadina del Tricolle sarebbero riconducibili a tre nuclei familiari. Molto probabilmente cominciamo a fare seriamente i conti con il dopo feste di Natale. L'unica nota lieta è che le persone contagiate pare non abbiano sintomi a cominciare dai bambini che stanno bene. Dopo San Martino Valle Caudina ora c'è anche attenzione per Ariano, anche se preoccupa la situazione generale in Irpinia. Infatti l'ultimo bollettino dell'Asla attesta al 6,7% il tasso di positività in costante crescita da alcuni giorni. Il totale di positivi di oggi è di 62 persone su 913 tamponi processati. Intanto, come anticipato dal sindaco, sono stati comunicati anche altri quattro positivi per il comune di Chiusano San Domenico. Il primo cittadino De Angelis da giorni ha avviato uno screening di massa. Nella giornata di ieri sono stati effettuati altri 61 tamponi, tutti negativi. Il conteggio complessivo dei positivi è di 36 persone, mentre continua il monitoraggio anche degli esercizi commerciali, grazie alla collaborazione della locale Misericordia.